Ed eccoci con un altro dei video dedicati a YouTube, questo è uno dei video più importanti in assoluto, diciamo genericamente. Io quello che sto cercando di fare è creare una piccola mini guida a YouTube per aiutare tanti che vogliono un po' uscire dalle classiche cose che di solito vengono dette, le classiche cose con le tecniche che sono interessanti, però YouTube è totalmente altro. Quindi oggi parliamo dell'audience, che cos'è l'audience, come si costruisce un'audience, come funziona tutto il sistema dei consigliati, non entriamo nel dettaglio dell'algoritmo, del brevetto, ma vi faccio vedere qualcosa che probabilmente in pochi hanno fatto, hanno ragionato, sono riusciti ad arrivarci con quella che è la loro esperienza. Quindi poi andrò a fare nel corso di tutti i weekend una serie di altri video dedicati a questo argomento, così ci faccio una bella playlist e uno potrà iniziare e concluderla e farsi quasi questo corso. Fatemi sapere cosa ne pensate e fatemi poi sapere condividendo la vostra esperienza. Ieri abbiamo parlato per esempio dei tag e l'altra settimana abbiamo parlato delle miniature, con alcune indicazioni che ho letto poi nei vostri commenti, insomma non tutti conoscevano alcune argomentazioni importanti. Vi ricordo che da domani poi, sempre su Telegram a inizio lunedì, c'è il sondaggione, quindi vi chiedo di utilizzare Telegram e di votare questo sondaggione, e che poi sempre domani, quindi lunedì, uscirà un video il pomeriggio, non solo la mattina, sarà un video brevissimo chiamato Miglioriamo YouTube, un'iniziativa che è stata fatta tre anni fa ma che andremo a potenziare, insomma partecipate. Allora, perché quando vado per esempio sul canale della fabbrica dei malati, che è un gruppo di ragazzi che fa tanti video diversi, poi a un certo punto c'è una playlist su una webseries che hanno fatto, perché se io clicco sul numero 2, per esempio di Neko, no? L'ora del tè, il secondo episodio, poi dopo un po' resto lì a guardarci e ci sto 4 minuti e 46, ci sto un tempo importante. Perché YouTube, quando vado sulla home, mi mostra l'episodio 3? Come si fa ad ottenere questa cosa? Che cos'è che sta succedendo? Perché è così importante? Cos'è che ci evidenzia? Ci evidenzia delle cose molto interessanti. Filippo, tra l'altro nel video di ieri, commentava a proposito dei tag, diceva, possono essere utilizzati per far suggerire i video in una sequenza predefinita, proprio il caso che stiamo trattando? Com'è possibile? Come ragiona YouTube? Andiamo a vederlo. Ci siamo detti, l'avete ascoltato nel video YouTube 2020, io devo rifare il video come creare un buon canale YouTube, che è un buon canale YouTube, che è questa grandissima TV del mondo, si basa sull'audience, sull'intrattenimento, sull'interazione. Vi farò un video su questo apposito per specificare tutti i nuovi termini, come si fa a tracciare questa cosa, insomma, stavo preparando una serie di materiali. Allora, approfondiamo quella che è effettivamente l'audience. Che cos'è l'audience? O meglio, un aspetto importantissimo di come si costruisce questa audience, come si fa a costruire questa audience. Allora, noi su internet, per arrivare a questo concetto, devo partire da un'altra parte, come è stato con i tag e con l'indicizzazione. Noi su internet, utilizzando vari strumenti, da Analytics a Google Ads, a qualsiasi cosa, sentiamo parlare spesso di segmenti di pubblico, di gruppi di persone. Ad esempio, vi faccio un esempio per farvi capire. Se noi con Analytics abbiamo tutto settato, possiamo impostare, per esempio, degli obiettivi e creare dei gruppi di persone. Possiamo fare una serie di cose. Facciamo questa ipotesi. Persone che restano sul sito per più di tre minuti. Quando una persona resta sul sito per più di tre minuti, io creo un gruppo e poi, in modo, con quello che viene chiamato il marketing comportamentale, posso mostrare dei, non lo so, degli avvisi a quella persona lì. Posso mostrare delle cose, posso fare un retargeting, ovvero quello che vado io a fare, e creo tutta una serie di gruppi di persone all'interno del sito, in base al comportamento, e poi gli mostro degli annunci, dei messaggi personalizzati, eccetera, eccetera. Ecco, cambiamo mentalità su YouTube, perché è da questa che dobbiamo partire. Questo gruppo di persone. È possibile sul canale YouTube creare un gruppo di persone che, a seconda del comportamento, poi vedrà i video successivi? Sicuramente sì, perché l'audience su YouTube, ed è il primo concetto da scardinare, non è le persone raggiunte, non è quante persone raggiungo, ma sono quelle super mega che potrei raggiungere, ma addirittura c'è un altro concetto, che è il sottoconcetto che ancora su YouTube non ho visto trattarlo molto, che sono i gruppi di persone che tu riesci a creare. Come fai a creare un gruppo di persone su YouTube? Fast forward ha 25.000 iscritti, ci sono dei gruppi di persone, ma io non li ho creati, non posso farlo con una tecnica, non posso avere un codice di tracciamento, è YouTube che lo fa in automatico. Io posso influenzare questa cosa. Non conosciamo i dettagli tecnici di come avviene questa cosa, ma quello che io vi voglio lasciare è la cosa seguente. Su YouTube ogni video crea una potenziale audience, ogni singolo video. Ora, per mi immaginarvi, insomma, tutta questa cosa qua, dovete immaginarvi il video come un affluente. È un affluente di che cosa? Di un fiume, ok? E questo fiume, quindi abbiamo tutti gli affluenti che sono i nostri video, che vanno a finire in questo fiume, e questo fiume poi finisce nel vostro lago. Quindi noi abbiamo tutta una serie di affluenti che finiscono in un fiume, questa corrente, e questa fiume, questa, diciamo, rappresentazione, sono i gruppi di persone che finiscono poi nel lago, che è l'audience che noi potremmo raggiungere. Quindi ogni video crea un audience, ogni video è come se costruisse dei gruppi di persone, Ogni video è un affluente di qualcosa di molto più grande. A cosa serve sapere questa cosa? Come facciamo a influenzare? Serve questa cosa qui perché se io riesco a influenzare tutto il comportamento delle persone, ora vediamo come si fa, e fare in modo che quell'affluente effettivamente poi entri nel fiume giusto, la persona che inizierà a guardare il video prenderà la corrente giusta. Ovvero se c'è un gruppo di persone che dopo il video A guarda il video B, la prossima, tutte le prossime che guarderanno il video A, YouTube spingerà a farle guardare il video B, perché ovviamente si parla anche del fatto che le persone devono restare tanto sui video, certo il watch time, di cui ne abbiamo già parlato tante volte. Quindi se io riesco a fare questo buon lavoro, quando si ricarica la home, lui vedrà il video successivo. Questo avviene quando tu crei tutta una serie di condizioni, ma avviene in tutti i canali. Avviene, per esempio, è esploso il canale di Poli Nerd Deia prima di Natale, YouTube andava a mostrare tutta una serie di suoi video. Se c'è un piccolo consiglio che voglio darvi, se voi cancellate la cronologia, la home vi si ricarica con tutti i video nuovi. È un ottimo strumento per capire come un canale sta crescendo. Allora, il suo video, guardavi qual era il video più suggerito da YouTube e qual era poi il secondo. Sono riusciti tramite gli algoritmi a identificare che quel canale aveva generato un gruppo di persone che avevano uno stesso comportamento e quindi ha beccato e ha aumentato l'audience e l'ha mostrato a tutti e probabilmente tante persone hanno guardato alcuni video di costanza in sequenza. Questo è molto interessante. Quindi è una corrente. Quindi il consiglio che voglio darvi è pensiamo in grande. Perché pensiamo in grande? Perché quando noi pubblichiamo un video non dobbiamo pensare che lo guarderanno tre persone. Dobbiamo pensare al fatto che YouTube lo vuole mostrare a tutto il mondo. Facciamo questa ipotesi assurda. Ragioniamo per assurdo. Lo mostrerà a tutto il mondo. Che significa che lo mostrerà a tutto il mondo? Che tutti i miliardi di persone andranno a vedere il video. Allora questo concetto vi aiuta perché a questo punto se avete tante persone inizierete a curare i dettagli che di solito non curate perché sapete che magari lo guarderanno in pochi dettagli che tra un po' andiamo a vedere. Quindi che cos'è che bisogna fare tecnicamente? Quali sono questi dettagli importanti? Perché ci sono aspetti tecnici e aspetti strategici. Entriamo nell'aspetto tecnico poi andiamo nell'aspetto strategico. L'aspetto tecnico più interessante sono tutte le cose che possiamo fare ovvero le playlist creare una serie di playlist è l'aspetto più importante ovviamente insieme alle schede e alle schede finali. Quando tu hai questo affluente e questo video devi poi immaginarti che questo affluente finisce in questo fiume e possono arrivare tanti altri affluenti. Quindi quali sono gli altri affluenti del quale tu vuoi mandare le persone a prendere questa corrente per poi riuscire a fare il grande fiume? Sono le playlist le schede e le schede finali. sono le cose più interessanti in assoluto. Quindi bisogna saperle usare e consigliare i video giusti. Poi c'è la descrizione. Nella descrizione potete mettere i link a tutti i video. Abbiamo per esempio ne abbiamo parlato ieri i tag simili. Posto i tag abbiamo detto che non si usano per la SEO. Chi non l'ha visto vi consiglio di riguardare il video di ieri ma si usano per vedere la correlazione tra video simili e cercare di andare a correlarli. Poi abbiamo le stories. Nelle stories si può dire guarda metti il video Salvatore ne guarda più tardi e poi lo puoi guardare. Insomma creare tutta una serie di aspetti tecnici di link tecnici tra i video in modo che YouTube capisca che sono linkati in qualche modo ma poi venga rafforzato tutto questo perché la cosa principale è da che cosa dal comportamento delle persone. Quindi c'è questo aspetto tecnico. Perché molti non curano davvero con tanta cura questi dettagli? Perché pensano in piccolo pensano che ma cosa vuoi che sia un link in descrizione non ci guarderà mai nessuno. Per questo io vi dico pensate in grande video fa un milione di visualizzazioni ci sarà una percentuale bassa ok di persone che però andranno in descrizione e cliccheranno per andare a guardare il video successivo. Così funziona l'audience così si costruiscono questi gruppi di persone in questo modo qua per quanti pochi siano le azioni successive al video sono molto importanti quindi incentivare l'azione successiva è fondamentale se volete costruire dell'audience quindi anche le piccole azioni funzionano quindi fuori da youtube come aspetto tecnico vi consiglio sempre di riuscire ad avere un sito internet dove archiviare i video per categoria è importantissimo avere un sito dove tutto è archiviato in modo diverso perché su youtube non possiamo fare un'archiviazione sì abbiamo le playlist ma siamo limitati meglio anche avere un sito dove avere magari un canale telegram e della newsletter per fare cosa non solo per segnalare i video ma per segnalare i gruppi di video quando per esempio finirò con la playlist fatta a search console io molte volte quella playlist la includo nel forum gt mando un link diretto a tutta la playlist ho la possibilità di creare dell'audience in modo molto più forte ma tanti abbiamo detto non li curano bene perché pensano diciamo in piccolo l'audience si crea comunque andiamo ora all'aspetto strategico di questa cosa qual è l'aspetto strategico come si fa allora ero in treno qualche mese fa e vedevo che c'era un ragazzo che stava guardando youtube analytics da youtube studio detto cavolo che bello allora sono andato a vedere chi era si chiama Antonio Belculfine l'ho guardato ho pochi iscritti me lo sono guardato sul computer un attimo sono andato lì e gli ho dato dei consigli è una cosa che mi piace fare insomma mi piace un sacco appena vedo qualcosa dare dei consigli a secondo di quello che vedo e gli ho dato un consiglio ho detto guarda dovresti creare semanticamente il tuo canale archiviarlo semanticamente riuscire a farti una mappa mentale diciamo così che cos'è questa mappa mentale perché è importante strategicamente per l'audience questa cosa per lo sviluppo del canale abbiamo detto no il nostro centro del canale è il lago poi abbiamo il ramo di questa mappa mentale che è il fiume e poi il fiume è fatto da tanti affluenti il suo canale andando a leggere ha tutta una serie di argomenti per esempio lui ha tutta una serie di video su New York ma ha tutta una serie di cose sugli strumenti per chi viaggia ha tutta una serie di argomenti che sono semanticamente connessi ora com'è possibile farlo perché dovremmo partire dalla mappa mentale in modo diciamo io lo dico semantico ma non è il termine corretto è questa che vi mostro il suo canale YouTube ha tutta una serie di strumenti per viaggiare e ha il video sulle migliori applicazioni ha il video per creare l'itinerario poi ha l'altro fiume New York con i migliori pass quanto costa allora questa cosa qui è importante se io mentalmente archivio questa cosa ho una mappa mentale posso fare una serie di cose tecniche sui video come ci siamo detti prima ma anche di sviluppo successivo la mia keyword research sull'altro video per gli strumenti per viaggiare la posso fare andando ad analizzare questi due video che ha già pubblicato per esempio facciamo un esempio lui ne ha molti di più magari ci faccio un video su questa cosa in modo specifico se vi interessa allora a quel punto lì che cos'è che fa fa un'analisi strategica delle chiavi migliori per esempio scopre che ci sono delle chiavi affini oppure con youtube suggest insomma scopre che dopo migliori applicazioni e creare l'itinerario c'è quell'altra cosa lì che è associata agli strumenti per viaggiare e lui che cos'è che fa crea il video nel momento in cui crea il video nelle schede in descrizione nella playlist lo aggiunge a tutta questa cosa qui e youtube sa che questi affluenti e il prossimo video è un affluente di che cosa degli strumenti per viaggiare e nel momento in cui una persona ha guardato gli strumenti per viaggiare del suo canale e li carica alla home nei video recenti ci sarà il nuovo affluente sarà allincato lo capirà e glielo mostrerà in home è quello che succede con il canale della Rai il canale della Rai per esempio usa tutte le anteprime il pubblico che guarda il canale della Rai clicca sulle anteprime fa avanti indietro dei video delle anteprime di quello che gli interessa magari gli interessa solo quelli che è il calcio magari gli interessa solo una parte di Sanremo non lo so il festival o l'altro come si chiama il format e youtube poi mostrerà a quel gruppo di persone quel tipo di video lì perché non c'è bisogno di troppo cose specifiche perché youtube lo fa con lo studio delle persone e finora abbiamo trattato un argomento ma il video è già abbastanza lungo per quello che avevo previsto abbiamo trattato come riuscire a entrare diciamo così nel proprio canale a correllare i video del proprio canale per i video degli altri farò un altro video successivo ne parleremo settimana prossima o ancora quella dopo vi ricordo che ho appena pubblicato quindi tutta una serie di video su youtube quello sui tag che domani uscirà sicuramente quello miglioriamo youtube la sera e c'è il sondagione su telegram se volete partecipare questa settimana usciranno un sacco di video interessanti tra cui una collaborazione e poi parleremo dei trend del digital marketing fatemi sapere con un commento cosa volete approfondire condividete la vostra esperienza che è sempre molto importante io sto ricevendo un sacco di input da vostri commenti e credo che è una delle cose più belle che mi siano mai capitate almeno negli ultimi anni è sicuramente una delle cose più belle quindi continuate a condividere fatemi sapere con un mi piace se vi interessano questi argomenti ma credo veramente di sì visto che stanno aumentando un sacco le interazioni su questa tipologia di video noi ci ascoltiamo domani grazie a tutti